Buongiorno a tutti, oggi ti parlerò delle varie tipologie di sbiancamento dentale che abbiamo presso la nostra clinica dentale Santa Teresa. Per prima cosa bisogna fare una visita di valutazione per vedere se il paziente ha tutti i requisiti per poter fare lo sbiancamento e decidere insieme al paziente che tipo di sbiancamento fare. Bisogna valutare diversi fattori, tra cui le aspettative del paziente, il tipo di colore di smalto che ha il dente del paziente e gli stili di vita del paziente. Prima di fare una seduta di sbiancamento bisogna sempre fare una seduta di igiene professionale. Un bel sorriso va oltre all'aspetto estetico, migliora la percezione personale facilitando le relazioni sociali, quindi aumenta l'autostima, maggior fiducia in se stesso ed è un bellissimo biglietto da visita.